Ciao amici, oggi suoniamo il nuovo ukulele Kala in bambù. Questo ukulele bellissimo vi colpirà all'inizio per il buon odore. Il bambù è la scelta più eco-friendly per quanto riguarda il materiale per costruire uno strumento musicale. Lo sapevate che una piantagione di bambù si rigenera velocemente senza nemmeno essere ripiantata? Lo strumento si presenta chiaro e con una verniciatura satinata. Il top, le fasce ed il fondo sono in bambù massello. Il manico, la tastiera ed il ponticello sono in bambù. Ha un ottimo volume, è pieno di armonici ed ha un buon sustain. Il suono di questo legno dal look così naturale è molto brillante. Il capotasto e la selletta sono di un materiale particolare che si chiama Graf Tech New Bone. La finitura della vernice è satinata e lo strumento viene fornito con corde Aquila Super Nilegat. Ovviamente arriva in una comoda custodia morbida. Andiamo a sentire come suona. Per avere un suono più naturale possibile, ecco qui, registriamo con un microfono a condensatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.